Di Eugenio Montale, riemersa da un'infinità di tempo. Riemersa da un'infinità di tempo, Ceglia, la Filippina, ha telefonato per aver tue notizie. Credo stia bene, dico, forse meglio di prima. Come, crede, non c'è più. Forse più di prima, ma, Ceglia, cerchi d'intendere. Di là dal filo, da manila o da altra parola dell'Atlante, una balbuzie impediva anche lei. E riagganciò di scatto.